Purtroppo festeggiamo oggi il secondo Natale senza lavoro, un anno fa ricevevamo le prime raccomandate di licenziamento e quindi oggi abbiamo voluto un pochettino riporre l'attenzione della città, della stampa, delle istituzioni sulla nostra vertenza che a tratti ci sembra un po' dimenticata. In questo anno molti sforzi sono stati fatti in diverse direzioni, una è stata quella purtroppo degli aspetti legali che ha assorbito tantissime energie ma anche sugli aspetti di rioccupazione quindi dell'avvertenza ci sono stati tanti incontri, tanti passi però allo stato attuale ancora non si finalizza niente e quello che constatiamo amaramente è che non c'è neanche una pianificazione al momento delle possibilità di ricollocazione per l'anno nuovo. Come ha annunciato più volte da più parti la scommessa della regione Abruzzo che ci sta seguendo con l'assessore Rolli e vicepresidente è quella della Space Economy, però si sta facendo un po' fatica a creare la soluzione giusta perché vengano rivalorizzate le nostre professionalità all'interno di questo percorso. Un'altra cosa che ci balza agli occhi è un anno di distanza che spesso si fanno annunci in questa città di smart city, di tecnologia, di colossi che devono arrivare qui, però vediamo come questo non si traduca in posti di lavoro. Noi vediamo che l'occupazione non sale, non vediamo i neolaureati delle nostre università non vengono assunti e chi come noi ha perso lavoro a un'età in cui è difficilissimo, quasi impossibile in questo territorio rioccuparsi, l'unica alternativa è andare fuori e tanti colleghi ci hanno preceduto nella scelta amara di chiudere le loro case e cambiare città.